Ciao a tutti ragazzi, oggi apriamo la mobile, facciamo aprire l'uomo L'ho aperto, oh ma questo è il tetuccio Ecco tutta la roba Ecco, l'ho macchina Ecco, così Ecco il camper Ecco la barca verde Barca verde e dolce Ecco il camper Ecco il camper Ecco il camper Stiamo dando la ruota? Si Stiamo dando la ruota? Si Stiamo dando la ruota? Si Ok Stiamo dando la ruota? No Ecco il Girls Ci C'è un po' di più. mamma, una porca uuuu ooo qua schien ooo è più bagaglio è più bagaglio questo ui guarda cosa devi mettere sopra non sottotitoli Ehi, la cintina massa Nice, nice No, no, no No, no, no No, no No, no No La parca Oh, la parca è fuori Va fumando Non è che noi La polizia no No, 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 no No, no No, no No Ciao ragazzi Ci vediamo domani No, no No Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale